Facciamo festa, divertiamoci, ma innanzitutto è il Natale di Gesù, quindi che ci sia un momento di preghiera, di pensiero, di riappropriazione delle nostre identità. Poi che questa città faccia come il Papa ci ha riproposto il presepio di Greccio. Capitolo 30 della vita prima del Celano descriveci tre verbi. Il primo è accogliere, il secondo è muoversi e il terzo è farsi carico del bene comune. Questi tre verbi che sono il presepio torneranno ad essere esperienza viva di questa bellissima, incantata chiesa aretina. Arezzo svegliati, Arezzo accogli, questo è il messaggio di Natale del Vescovo di Arezzo, Monsignor Riccardo Fontana. Nel suo messaggio agli aretini c'è stato spazio anche per parlare dell'impegno della diocesi sui temi ambientali. Sì, la diocesi ha fatto tre convegni sulla laudato sì, il primo sulla forestazione. Noi siamo celebri nel mondo per le foresti casentinesi. La conservazione e lo sviluppo di questo patrimonio ci interessa molto. Poi abbiamo ragionato sulla qualità della vita umana dal sorgere fino al naturale tramonto. E poi è venuto il professor Giovannini a presentarci ciò che continuamente è chiamato a insegnare dagli Stati Uniti all'Australia, in tutte, in Francia dove ci ha lavorato per anni, in Germania dove è apprezzatissimo, ha trovato il tempo di venire un pomeriggio di sabato e tutto sommato gli aretini hanno risposto perché dentro San Francesco Gelata essere in 354 è stato un bel risultato. E ancora sul tema dell'accoglienza, il Vescovo ha commentato i volantini apparsi pochi giorni fa nella zona di Saione ed in particolar modo in Via Piave. Arezzo non è una città xenofoba e piuttosto vadano a cercare chi è il personaggetto che ha sparso volantini per Via Piave. Dire che Saione non è vero, dire che qualcuno voleva provocare una reazione, questo è molto comprensibile, ci facciano sapere gli organi preposti all'ordine pubblico, cosa è successo e i politici ci commentino adeguatamente senza strumentalizzare un fatto marginale che ci ha portato però a finire sulle cronache grosse. Grazie a tutti.